Signori, è fatta Daniele De Rossi rinnova con la A.S. Roma, è ufficiale notizia delle ultime ore, appunto, è una notizia ufficiale che arriva poche ore prima dell'Euroderby, del ritorno Roma-Milan, ed è una notizia che per molti è considerata una strategia mediatica, e per altri un piccolo errore, perché annunciare il rinnovo prima di una partita così importante potrebbe essere sbagliato, cosa con cui io non sono d'accordo, ma poi vi andrò a dire la mia. Allora, De Rossi rinnova con la Roma, premesse. Io, quando è arrivato De Rossi, ero tra quelli, tra i tanti, che dubitavano, ed io sono onesto, ho l'onestà intellettuale, e vi dico che dubitavo, ok? Dubitavo perché a me, io sono un murignano, quindi io l'avrei trattenuto murigno, e non mi aspettavo che un tecnico praticamente esordiente, anzi, esonerato dalla SPAL qualche mese prima riuscisse a fare quello che sta facendo. Ora, alzi la mano chi se lo aspettava, quindi non fate i santi chi sta vedendo questo video, penso che nessuno se lo aspettava, e comunque andare a sostituire uno con 26 trofei era una mission, non dico impossible, perché ce l'ha fatta, ma molto molto complicata. E invece ad oggi, 18 aprile, parliamo di un allenatore che, a mio parere, al di là di quello che sarà stasera, al di là della qualificazione in Champions finale, merita il rinnovo. E infatti, e infatti i Fiatkin gliel'hanno rinnovato il contratto, come giusto che sia, come fa in questo momento a non rinnovare il contratto a De Rossi? Io sto godendo come un riccio, perché? Perché era importantissimo, era importantissimo rinnovare questo contratto. Bisogna dare certezze per il futuro, bisogna dare indicazioni in un momento in cui tu non hai il direttore sportivo, in un momento in cui la presidenza è un po' contestata, ok? Devi dare indicazioni chiare. In un momento in cui c'hai tanti giocatori in scadenza, tanti giocatori in prestito, quindi c'hai un po' di dubbi sul futuro, devi sapere già chi sarà l'allenatore della tua prossima stagione. E Daniele De Rossi è l'allenatore ideale. Ad oggi lo devo ammettere. Io avrei firmato all'inizio per dire queste parole al miele per De Rossi, che se lo merita, se lo merita. E io sono veramente felice. Penso sia la scelta giustissima, accantonando i risultati che sono non dalla sua parte di più, dalla sua stra parte, ok? Ma accantonando questo, io penso che per noi, in questo momento storico, avere un allenatore che, prima di essere, come ho detto, un allenatore, prima di essere stato un giocatore, prima di essere un professionista, è un tifoso dell'Alessa Roma. E di cosa parliamo? Chi mi aiuti lui può capire le nostre esigenze, i nostri obiettivi, le nostre emozioni, ok? Secondo me è un allenatore da Roma. Non è stato specificato la durata del contratto, ma io penso sarà o un altro anno, un altro anno con opzione per il secondo, cose del genere. Non penso sia un contratto stralungo, perché bisogna piano piano misurare poi in futuro quelli che saranno i risultati della Roma. Ma poi penso che Pellegrini, ieri in conferenza stampa, e non so se avete visto, ha detto tutto. Ha detto che i giocatori si butterebbero nel fuoco per De Rossi. Ecco, è una cosa bella, perché è una cosa bella il fatto che abbiamo un gruppo vicino. Ripensando però a quello che è stato con Mourinho, penso che c'è stata una divisione nel gruppo, nello spogliatoio, ma questo ormai fa parte del passato. Noi dobbiamo pensare al presente, rimanendo grati, super grati a Mourinho. E De Rossi è la scelta migliore. Poi, almeno che tu vai a prendere Conte, vai a prendere Klopp, quelli là non ci vengono, perché Klopp si fa le vacanze. Conte ti chiede, vuole vincere la Champions. Di certo io non ci vado a prendere Diago Motta, non vado a prendere Palladino, non vado a prendere Vincenzo Italiano. Perché? Perché dovrei fare lo scambio De Rossi-Tiago Motta, De Rossi-Palladino, per dei tecnici che a mio parere sono anche inferiori a De Rossi. Cioè, Palladino è un tecnico che a me non mi fa né caldo né freddo, non mi dà niente. È un tecnico senza emozioni, che non mi dà nessuna vibes. Tiago Motta è idem, Tiago Motta ha messa pure antipatico, quindi onestamente non lo vorrei sulla panchina della Roma. L'italiano sì, tra i tre è quello che preferisco di più, ma perché? Perché è al posto di De Rossi? È la scelta chiave, chiave comunicativa, il fatto di averlo detto oggi. Fermatevi qua, fermatevi un attimo. La scelta di annunciarlo oggi è una scelta super intelligente, perché tu dai due segnali. Il primo segnale è che la partita di stasera non decide il futuro, perché è rinnovato De Rossi. Quindi l'ambiente sta un po' più soft, un po' più calmo. E il secondo è la fiducia. È la fiducia che la società ripone nell'allenatore, che la società ripone nella squadra, e appunto fa stare un po' più calmi, ma non appagati, la squadra. Questo però secondo me ti agevola anche nel giocare, perché giochi con meno pressione. Perché attenzione, la pressione sì, ti fa fare bene se ce l'hai, non tantissima di pressione, ma se c'è tanta 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 pressione, c'è chi non la regge. Quindi è un rinnovo che secondo me c'è, è un rinnovo che significa una dose di adrenalina, una dose di comunque felicità anche per i giocatori che hanno gridato a gran voce il rinnovo di Daniele De Rossi. Quindi io penso che sia una buona strategia comunicativa, che i Fredkin hanno attuato e che condivido. Poi il mio pensiero su di loro rimane tale, cioè che non è che loro hanno preso De Rossi perché si immaginavano che De Rossi facesse questo. Cioè tutti questi punti. Hanno preso De Rossi per pararsi il culo. Perché? Perché tu vai a prendere un uomo di Roma, vai a prendere un figlio di Roma, vai a prendere De Rossi che è stato alla Roma per vent'anni, perché cacci Murigno che era voluto da difosi, vai a prendere De Rossi in modo che non ti attaccano. Questa è la roba, non è che i Fredkin hanno pensato a quello che poteva fare, no. No, ok? Non è per niente questo. Le cifre, come ho detto, non si sanno, non si sa la durata del contratto. Quel che è certo, annuncio dei Fredkin, è che De Rossi è il futuro della Roma, rimarrà alla Roma. È ufficiale, io ora attendo la durata del contratto. Voglio vedere le cifre, ma non penso siano tanto superiori a quelle attuali. La cosa che mi importa è che trattino De Rossi come merita, non lo trattino come tifoso, non lo trattino come ex giocatore. Io voglio che la società tratti De Rossi con la serietà con cui ha trattato Murigno. C'è un allenatore che fa l'allenatore, che esige una grande squadra. De Rossi si deve impone, si deve impone. Perché? Perché se vai così con un grande futuro non ti devi accontentare. De Rossi, secondo me, la Roma con De Rossi può vincere, può aprire un ciclo vincente. Fermi qua. Ciclo, ciclo, non intendo un ciclo dove alla fine finisci con 4 Champions, 7 Scudetti, 10 Coppa Italia, 5 Supercoppe, 3 Mondiali per Club. Non è quello il ciclo. Il ciclo, secondo me, è un processo di crescita della squadra, dell'ambiente, candito ovviamente da qualche trofeo. Come può essere stato il ciclo Murigno, perché non venitemi a dire che la Roma non è cresciuta dal pre-Murigno al post-Murigno. La Roma è cresciuta come rosa, come consapevolezza, come società, perché il nome di Murigno ti porta tanto. Ha vinto una conferenza, ha fatto una finale, è in top 10 nel ranking UEFA, ok? Ecco, io mi aspetto questo da De Rossi, cioè che è ancora più giovane ovviamente di Murigno, ti apre un ciclo di crescita esponenziale e che ti porti a casa anche qualche trofeo. Speriamo anche nel breve termine, cioè che questa stagione finisca con un trofeo, un'Europa League. Ma anche se non dovesse essere così, se dovesse la Roma uscire stasera, De Rossi, l'operato di De Rossi non è in discussione, ma per niente. Perché De Rossi sta facendo benissimo. Ha perso solo con l'Inter, che è la prima in classifica. Tutto il resto ha vinto tranne il pareggio con Lecce. Ma che gli vuoi dire? Cioè, che gli vuoi dire a De Rossi in questo momento qui? Non gli puoi dire assolutamente niente. Quindi, ragazzi, sono veramente molto molto contento di questo rinnovo. Speriamo bene per stasera, che è una partita, sì, come ho detto, che non deciderà il futuro di De Rossi. Ma è una partita importantissima, perché è un quarto di finale dell'Europa League. E secondo me, io ribadisco, se la Roma passa, va in finale. Quindi ci può stare il Bayern Leverkusen, ci può stare il West Ham. Se la Roma passa, scrivetelo, perché io l'ho già detto, la Roma va in finale. Non importa chi ci sarà in semifinale, ma se la Roma batte il Milan, sarebbe una cosa clamorosa mantenere il risultato. La Roma va in finale e la vince. Io non voglio fare il gufo. Io dico, se la Roma batte il Milan, la Roma va in finale e vince. Io ve lo dico. Io ve lo dico. Io ve l'ho detto. Piccola menzione. City Real, passi in Real. Clamoroso. Partita spaziale. Quello è il calcio che mi piace. Bayern Arsenal. Passa il Bayern. Il Bayern passa. Complimenti al Bayern. Ovviamente ho tifato per il Bayern, in quanto sono molto vicino al Bayern. Ho praticamente tutto il Bayern Store nell'armadio. Ho magliette, sciarpe, accessori, tutto. E niente, ragazzi. Iscrivete la vostra. Per quanto riguarda il rinnovo di De Rossi, se non è una cosa stra-positiva. Mi auguro si apre un ciclo vincente. E magari uno scudettino nei prossimi anni. Magari ci scappa. Attenzione, attenzione. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo contenuto. Condividete il video. Lasciate like. Sempre forza Roma. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Non perdetevi il post partita di Roma-Milan. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.